... Tu adesso mi dici dov'è mia sorella? Poi io ti faccio uscire, mi manda. Dov'è, Dio? Si trova un'avverti in distanza su appena fuori città, Tosca. Come so che lo stai nel tempo? Grattette, ancora non hai capito che tutto sta andando esattamente come vuole noi. Ha detto di andarci da su. E' stato un vero piacere farlo con te, non. Possiamo restare fuori. Devo andare da su, non ti amico. No, devo andare, devo fare qualcosa, sai? Pensa se sei un tasso di loro, non ti può fare.